In che modo Italia Camp promuove e sostiene l'innovazione tecnologica e in che modo dialoga con gli Atenei, quindi con l'università? L'università sono i nostri primi partner, noi abbiamo un network di 65 università italiane e di una ventina di università straniere, le università sono il luogo nel quale Italia Camp è nato, perché Italia Camp nasce dall'iniziativa di alcuni studenti che decidono di mettersi insieme per cercare, oltre al proprio lavoro, di invertire la tendenza, che è poi il motto di Italia Camp. Invertire la tendenza significa aprire i cassetti nei quali tutte le idee e i progetti sono nascosti, perché in Italia ci sono ma sono nascosti, ce li teniamo ben stretti nel cassetto affinché nessuno ci rubi e provare a far capire che è molto più arricchente condividere che nascondere. All'interno di Basilicata App & Start come si colloca Italia Camp? The Camp aiuterà sostanzialmente BUS, Basilicata App & Start a far emergere innanzitutto tutti i progetti innovativi, non solo di innovazione tecnologica, perché non è solo innovazione tecnologica il tema di Basilicata App & Start, ma insomma in tutti i settori nella quale l'innovazione si può applicare poi effettivamente alla vita di tutti i giorni. E poi si occuperà di tutta la parte di affiancamento e realizzazione, che è la parte che a noi riesce meglio o almeno proviamo a fare in una maniera più corretta, quindi la parte in cui bisogna trovare qualcuno che sia interessato a quell'innovazione e che porti quell'innovazione dallo stato di idea allo stato di progetto realizzato. Grazie a tutti.